Tutto parte da qui, Corso Europa, 100 metri da Piazza San Babila, dal Mediolanum Parking, parte il ricorso ad Area C colpevole, secondo il ricorrente, di aver causato un dimezzamento degli affari, quindi un danno oggettivo. Uno dei tanti ricorsi nemmeno sulla carta il più sconcertante. Eppure l'accoglimento proprio di questa lamentela da parte del Consiglio di Stato è stato causa di una valanga legislativa prima, tecnica e politica poi, che ha sospeso Area C a tempo indeterminato, almeno fino al 14 di novembre, data in cui è prevista una nuova udienza. È stata presa una decisione anteponendo l'interesse personale o individuale all'interesse pubblico, il che già non mi convince. Dall'altro non si è tenuto conto di un fatto rilevante, cioè che il Comune ha già predisposto e la Giunta ha già deliberato una convenzione di accordo con tutte le autoremesse di Area C, quindi evitando e limitando o addirittura eliminando uno dei punti cardini del provvedimento del Consiglio di Stato. È un provvedimento che in sostanza era accettato dalla città e i benefici, il meno 34% del traffico, sono visibili a tutti quanti i cittadini. Crediamo, pur rispettando la decisione del Tribunale e del Consiglio di Stato e avendogli dato attuazione, che forse l'interesse generale valesse maggiormente. Il Comune ora deve cercare di aggirare l'ostacolo legislativo per evitare una sospensione troppo pesante utilizzando strumenti che forse avrebbero potuto essere messi in campo prima. Quello che vogliamo fare noi è che convocheremo una commissione mobilità d'urgenza lunedì e vorremmo rilanciare. Io credo che debba essere il Consiglio Comunale e non solo la Giunta a prendere in mano la cosa, a fare un provvedimento più esteso, un provvedimento più condiviso, un provvedimento più forte perché se lo fa il Consiglio Comunale poi è molto più difficile ricorrere.